Casa Poderosa è il luogo ideale per gli amanti della buona tavola. Passione, qualità e ricercatezza sono ingredienti essenziali di ogni nostro piatto. Un ricco e pregiato menù di carne con un'ampia scelta tra antipasti, primi e secondi di altissima qualità. Portate sempre genuine e appetitose, realizzate secondo la migliore tradizione culinaria. Casa Poderosa è una location esclusiva, con un'atmosfera accogliente e intima. Una riservatezza e una tranquillità molto apprezzata per tutte le occasioni private, lavorative e per le cene aziendali di fine anno. Vivi anche tu l'esperienza di Casa Poderosa. Casa Poderosa ti aspetta tutti i giorni a cena, la domenica anche a pranzo.